Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per essere aggiornato sulle novità. Non perderti le interviste video sul sito, anche su Telegram e gli speciali in podcast su Spotify. Fabbrica della comunicazione è un progetto culturale e divulgativo. Seguici. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Consueto appuntamento con l'approfondimento stoico di Michele Putrino. Ciao Michele, ben trovato. Ciao Beatrice, buongiorno. Allora, oggi con Michele affrontiamo una tematica davvero molto importante, soprattutto perché si parla sempre di dolore, di sofferenza, di una vita che affrontiamo, che insomma voglio dire in fondo la sofferenza permea qualsiasi ambito di quello che è il nostro quotidiano, no? Cioè ogni volta che tocchiamo una cosa che ci piace, è un piacere effimero perché comunque tende a durare pochissimo e quindi ci rimergiamo in una atmosfera invece non piacevole, non di gioia, non di felicità, che è invece quello che tutti quanti noi inseguiamo da sempre. Quindi quando a qualcuno chiedi che cosa vuoi dalla vita sicuramente qualcuno ti dirà essere felice, poi qualcuno che invece è più strutturato probabilmente ti dice essere sereno, che sembra quasi una sorta di vedere le cose da un'altra prospettiva, cioè vederle con un po' meno di aspettative, però tendenzialmente si va verso lo stesso risultato e quindi ci siamo chiesti perché esiste il dolore, perché esiste la sofferenza, qual è l'opinione stoica? Allora diciamo che normalmente l'idea che è passata in questi secoli, in questi millenni è che soffriamo perché dobbiamo scontare un peccato, non questa è la classica risposta cristiana, ma è anche la classica risposta platonica di tutte queste filosofie trascendenti. È ovvio che dal punto di vista razionale oggi non è qualcosa che si può più accettare, non possiamo dire semplicemente siamo qui solo per scontare una pena, questo poteva valere un tempo, oggi sarebbe una forzatura anche alla luce di quello che abbiamo visto con la ragione, con le nuove esplorazioni del mondo e così via. E allora torna inevitabilmente la visione antica dello stoicismo, poi ripresa in parte da Schopenhauer, ma portata proprio poi all'estremo a una fioritura molto accesa da parte di Nietzsche. Qual è questa visione? Beh, la visione è che siamo qui, noi viviamo e soffriamo perché in sostanza la vita è attrito. Cioè, per la vita che cos'è alla fine Beatrice? È un continuo contrasto tra cose ed eventi, altrimenti resteremmo tutti fermi, no? Per io per vedere il bianco o la luce devo avere le ombre. Per poter toccare qualcosa ci deve essere qualcosa che fa attrito con me, entra in contrasto con me. E se ci pensi, quello, la mia mano che tocca un angolo ad esempio, è già un leggero dolore. Quel tatto provoca un leggero dolore. Più è intenso questo scontro, questo attrito, è maggiore il dolore, è maggiore la sofferenza. Quindi in sostanza la sofferenza cos'è? È la percezione di questa dinamica, di questo scorrere degli eventi, di questo attrito che è la vita. Ecco perché percepiamo la vita come dolore. Ma perché per noi diventa una tragedia tutto questo? Perché rifiutiamo questa concezione del mondo, non accettiamo l'idea che la vita è dolore. E quindi andiamo, inseguiamo in continuazione soltanto un mondo privo di sofferenza. Questo inseguire questi fantasmi ci porta a vedere in maniera ancora peggiore tutto questo dolore e questa sofferenza. La prima domanda che ti voglio fare è perché dobbiamo per forza vivere in una dualità. Cioè tu dici scopriamo quello che è il bianco perché c'è il nero. Scopriamo quello che è sofferenza perché forse abbiamo capito che cosa era la felicità. Oppure lo abbiamo sperimentato perché in realtà è attraverso questa dualità che noi abbiamo delle percezioni. Noi abbiamo anche forse un esatto concetto di ciò che vogliamo. Ma vedi, la dualità è la vita Beatrice. Senza la dualità, senza appunto l'attrito, le parti che si scontrano, non ci sarebbe semplicemente la vita. Io lo so che è pieno di teorie in giro che derivano tanto da queste vecchie filosofie trascendenti, ma sono già state superate da almeno un paio di secoli, un secolo di sicuro, dimostrando che non si potrebbe nemmeno parlare senza l'attrito, senza lo scontro. Provateci. Significa essere semplicemente morti, piatti. Immaginate di essere dentro una stanza completamente bianca, priva di angoli, priva di tutto, solo bianco. Quella è vita, è morte. E lì non c'è la dualità. Quindi il nostro sciocco desiderio di vivere privi, senza dolore, questa illusione, ci porta a immaginare un mondo senza dualità. Ma il mondo senza dualità non è il mondo, non è la vita, è morte. Detto questo però, tu alludi alle filosofie trascendentali, ma naturalmente parliamo anche di religione in questo caso. Quindi la nostra religione in Italia, quella che possiamo considerare comune, è il cattolicesimo. Nella sua accezione di prevedere per il nostro futuro una vita dopo la morte che possa essere dedicata alla contemplazione, quindi in questo senso diciamo un paradiso, oppure no, oppure una dannazione, quindi all'inferno. Quindi molto di questo concetto di dolore, di felicità, viene in un certo qual modo sublimato da questo post, post vita, quindi come uno potrebbe anche dire, vabbè, ho una vita che fa schifo, mi alzo perché già sono distrutto, pensieri, debiti, che ne so, per non parlare di situazioni veramente problematiche, che malattie e quant'altro, però uno dice, vabbè, io però sicuramente un posto in paradiso me lo sono meritato. Che ne pensi? E che uno c'è nel senso che questa poi è purtroppo una di quelle illusioni, autoillusioni, che servono per andare avanti, certamente calmano, ok? Perché sai, credere di avere un futuro post mortem, dopo la morte, in cui sei felice, in cui tutto questo che hai attraversato oggi è servito soltanto come prova per poter ottenere quello come premio, è certamente confortante, però diventa a sua volta una droga, Beatrice. E come tutte le droghe ti danno serenità in questo momento, però poi ti procurano maggiore danno dopo. E infatti tipicamente chi si aggrappa poi a questi tipi di ideologie, di visioni del mondo, ebbene, non fa altro, poi soffre ancora di più, soffre ancora di più quando poi accadono gli eventi pesanti nella vita, perché non sei preparata. È come non avere i calli sulle mani, cioè se tu devi usare lavori, ad un certo punto, certo hai della sofferenza, ma quella sofferenza, quella continua sofferenza alle mani, e quindi piano piano ti crea il callo. Quel callo poi ti porta a proteggerti, a resistere ai problemi, anzi diventa poi pure, magari in alcuni casi, un piacere provare quell'attrito. Se io invece cerco di scappare sempre, come fanno i bambini ad esempio, che non vogliono provare dolore, non vogliono provare sofferenze, non vogliono scontrarsi, cercano solo di rifugiarsi, per esempio, in mondi magici, ebbene, poi appena si presenta la realtà, diventa una tragedia, tragedia nel senso pesante del termine. E questo è quello che ancora in molti non riescono a capire, perché è faticoso, è come lo sportivo, tu puoi dire a qualcuno, guarda che se inizi ad allenarti, poi starai meglio, però è doloroso allenarsi, è faticoso, certo, ma pensa al dopo. Infatti tipicamente molte persone che non hanno mai fatto un minimo di sport nella propria vita, poi si lamentano in continuazione di mal di schiena, di braccia, di gambe, eccetera. Chi ha fatto sport magari prova anche lui del dolore fisico, del mal di schiena, eccetera, ma percepirà tutto questo in maniera molto diversa rispetto a chi non ha mai fatto sport nella sua vita o attività fisica. È la stessa cosa Beatrice. Quindi esercizio per riuscire a sopravvivere tendenzialmente, cioè come vivere in questo mondo accettandone la dualità e soprattutto accettando il fatto che visto che ci siamo dobbiamo starci in un certo modo. Esatto, esatto, ma non è un semplice sopravvivere, è un vivere poi, perché se tu impari ad accettare la vita come sofferenza, ok, ad accettare la vita in quanto sofferenza e a giocare con questa vita, ok, ma ne come fa lo sportivo in questo senso, no? Ebbene ad un certo punto tu senti la vita, non è più solo un sopravvivere, ma è proprio un vivere in maniera attiva. È questo che io faccio tanta fatica a cercare di spiegare tante volte alle persone, perché ovviamente è una concezione completamente diversa rispetto a quella a cui siamo tutti abituati, perché la gente scappa via. Invece la visione stoica ti dice questo, per questo sai, ne abbiamo già parlato anche con te, la visione stoica non è semplicemente quello che diceva Senica o Marco Aurelio, non è quello il punto, il punto è un approccio all'esistenza, questa approccio all'esistenza ti dice che devi imparare ad accettare la vita per quella che è, e la prima regola è accettare la vita in quanto tragedia, in quanto dolore, perché è così, e non potrebbe essere diversamente, perché come ti dicevo, scusami Beatrice, concludo questa parte, perché come ti dicevo la vita è attrito, la vita è contrasto, quindi se non impara ad accettare la vita come contrasto, come scontro, come sofferenza e dolore, non potrai mai realmente vivere. Ma in tutto quanto questo ambito, in tutto quanto l'ambito della filosofia, visto che tu parli di Marco Aurelio spesso parli di Seneca, ci sono magari degli autori che tu senti anche affini a questi concetti, diciamo qui ovviamente teniamo da conto di tutto quanto quello che è una filosofia presocratica. Assolutamente sì, allora in campo greco è Eraclito, senza ombra di dubbio, Eraclito infatti non a caso è come sai, i miei punti di riferimento, diciamo in senso culturale sono appunto gli Stoici Antichi e Nietzsche, che per me sono un tutt'uno, fanno parte di quella visione del mondo lì, che poi gli Stoici Antichi, i testi di alcuni degli Stoici Antichi sono arrivati a noi solo quelli che facevano comodo al mondo cristiano, ovviamente alcune sono state tradotte in maniera funzionale. Tra cui varie epurazioni. Cioè, è assolutamente normale, ma anche le traduzioni stesse, vai a leggere in latino in greco rispetto a come viene riportato, alcuni passi sono veramente duri, però magari ne parleremo un'altra volta di questo. Ecco, Eraclito è alla base appunto sia degli Stoici Antichi che poi della ripresa di Nietzsche di questa visione del mondo. Perché Eraclito ti dice proprio questo, ti dice che la vita è scontro, la vita è contrasto, la vita è attrito. Eraclito arriva a dire polemos, che significa guerra, no? Polemos, la guerra è padre e madre di tutte le cose, ok? Perché? Perché nel senso è la lotta, il contrasto continuo che procura e produce sofferenza. Guerra in tutti i sensi, Beatrice. Non solo la guerra classica tra nazioni o tra stati, guerra quando ti devi alzare la mattina, è guerra. Quando devi procurarti da mangiare, è guerra. Quando devi fare qualsiasi cosa, se tu ci pensi, è sempre un atto di sofferenza, sempre. In continuazione, quando devi andare al lavoro, quando devi uscire dal lavoro, quando devi entrare in macchina, è sempre una sofferenza, solo che tu l'hai accettata e fa parte della vita. Addirittura molti provano piacere di fronte a una cosa del genere, no? Perché cambi la direzione. La stessa cosa, la stessa cosa la vediamo per esempio anche nel taoismo, quel famoso Yin e Yang rappresenta questo, non è il simbolo della pace, è esattamente il contrario, il simbolo dello scontro, della lotta, che la vita è contrasto, che la vita è questo fluire tra, esatto, che è la vita, chi dice il contrario vuole solo rifiutare la vita, tutto qua. Oppure New Age, come abbiamo già detto in altre circostanze, no perché anche queste cose qua, no? Alcuni simboli che vengono presi, utilizzati, piene mani, c'è anche da dire, basti guardare lo svastica, insomma come è stato utilizzato male, per cui detto questo, uno può mettere sopra una pietra tombale a tutta la simbologia. Ciò detto però, il fatto di vivere sempre in lotta, come dici tu, quindi insomma avere questa percezione continua della sofferenza, è vero che noi forse cerchiamo di allontanarla, no? Cerchiamo questo mondo ideale, la maggior parte di noi almeno, no? Cerca nell'ideologia, nella visione del mondo, cerca nelle nuove idee o nelle passate idee, no? Come dicevamo della trascendenza, uno cerca un rifugio, una soluzione, però anche è molto stancante vivere sempre in lotta. Cioè, voglio dire, va bene che uno abbia chiaro questo concetto, ma poi ci dovranno essere dei momenti di stasi, perché anche nelle guerre gli stessi antichi romani avevano un attimo di tranquillità per bere vino e mangiare animali feroci, o no? Vabbè, ma è normale, c'è il momento della pace, c'è sempre, no? Della pace nel senso molto ampio del termine. Però vedi Beatrice, noi pensiamo, pretendiamo di vivere sempre in pace e magari avere dei momenti, alcuni momenti di guerra, diciamola in questo modo. I romani che tu hai citato invece avevano ben chiaro la situazione, infatti la famosa frase, si vis pacem parabellum, cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo, guarda che tu in sostanza sei sempre in guerra, puoi ottenere dei momenti di pace, ma la vita è guerra, con dei momenti, intervallata da momenti di pace. Noi invece pensiamo il contrario, vorremmo una vita tutta di pace, poi magari sì, ci sta qualche momento di lotto ogni tanto, però il grosso deve essere pace. Non è così, è vera la prima, non la seconda. Che poi ci siano dei momenti di pace non c'è ombra di dubbio, ma se tu impari a essere un guerriero, una donna che lotta ad esempio, un uomo, una donna che lottano in continuazione, ad un certo punto uno diventa un po' come quelli che si alzano sempre tutte le mattina, alle 5 del mattino, alle 6 del mattino per andare a correre, per andare in palestra e non riescono a fare a meno. Ecco, vedi? Poi non diventa stancante, diventa anzi un piacere enorme. E questa è la vita, è così che bisognerebbe imparare a vivere. Noi invece tendiamo a fare esattamente il contrario, a scappare. Invece tendiamo a fare un po' come quelle persone che invece passano magari le giornate invece di diventare dei combattenti a stare appiccicate al frigo, no? Magari fino a diventare… No, vabbè! Che immagine indecorosa voglio dire! Ma è così, è così e chi predica… il problema è che chi predica dal mio punto di vista, un giorno saremo felici, un giorno ci sarà la pace perpetua, un giorno questo, un giorno quell'altro, è quello che predica, vai a mangiare al frigorifero, capisci Beatrice? Cioè riempiti la pancia, stordisciti, cioè chi se ne prega? Certo, senti, nel momento in cui una persona prende coscienza di questi discorsi, di questa dualità e comunque si posiziona diciamo in questo modo. Come può trovare forza? Cioè esistono degli esercizi, mi viene da dire spirituali, che possano aiutare nel quotidiano le persone a mantenere questo rigore e allo stesso tempo non farsi prendere, non essere sconfitti, non essere sconfitti da questo stato di cose? Assolutamente sì, infatti una delle grandi arti dello stoicismo era proprio quello di tirar fuori delle tecniche pratiche da mettere in pratica, no? E infatti rientrano in quella virtù cardinale, che è stoica però non come è stata poi rielaborata dal mondo cattolico cristiano, che è quella della temperanza, che in realtà noi possiamo definirla, ritradurla, anzi dovremmo ritradurla secondo me proprio per non cadere nelle cattive interpretazioni, come autodisciplina autocontrollo. Cioè la prima regola è esercitarsi tutti i giorni a fare esercizi di autodisciplina e autocontrollo, ad esempio con il cibo, decidere di avere un controllo fermo sul cibo. Io mangio per esempio tre volte al giorno, uno dice a se stesso, la mattina mangio quattro biscotti, latte, caffè, punto. Poi si rimangia solo a pranzo per dire X, è autodisciplina quella, sembra una sciocchezza ma così niente fuori passa, ad esempio autodisciplina, esercizio interiore enorme. Oppure io vado a dormire ore X, a ore X faccio in questo modo, mi alzo ogni giorno, devo fare un totto di corso, di camminato, di esercizio fisico, cioè è proprio disciplinare se stessi Beatrice. Una disciplina militare sembra, no? Cioè quindi tutto disciplinato ad orario, come se fossimo in un collegio tendenzialmente. Ma gli orari, quelle cose lì, i militari lo facevano, veniva a fare il collegio e così via, era dovuta a questo, a forgiare lo spirito Beatrice, l'autodisciplina che è quello che fanno anche in realtà pure molte dottrine orientali, no? Alzarsi in una certa oraria, perché questo è l'unico modo per poter alzare il tuo spirito e imparare a diventare dei combattenti. Infatti se tu sei un guerriero, se questa vita è guerra, come abbiamo detto, questa vita è lotta e sofferenza, tu devi imparare a diventare un combattente, un militare. Infatti non a caso Seneca dice in latino, dove in latino prende benissimo il concetto, vita militare est, la vita è come prestare servizio militare, come no? Vedi che non riusciamo nemmeno a tradurlo bene, cioè per fortuna da italiani riusciamo a cogliere meglio il significato, però è difficilissimo rendere il concetto, ma è molto duro. O Marco Aurelio dice la vita è lotta e viaggio in terra la straniera, quindi tu ti devi preparare come guerriero, come combattente. Che naturalmente non è decontestualizzato, nel senso che uno potrebbe pensare, vabbè ma Seneca e Marco Aurelio avevano delle realtà intorno completamente diverse da quello che è oggi il nostro vivere quotidiano, invece magari lì c'erano delle guerre reali, oggi noi soffriamo da un punto di vista mentale molto di più che fisico. Esatto. E quindi dandoci delle regole sicuramente riusciamo a gestire meglio anche questo tipo di sofferenza. Sai cos'è avvenuto Beatrice? Sai perché noi soffriamo ancora di più paradossalmente rispetto al mondo antico? Perché noi, e qui invece questo è spiegato benissimo da Nietzsche, no? Cos'è avvenuto negli ultimi 2000 anni con il cristianesimo, insomma con questa visione del mondo? Che prima si agiva nel mondo esterno. Quando tu agisci nel mondo esterno, lo vediamo tutti, no? Quando io faccio qualcosa nel mondo esterno, anche se doloroso, sofferente, alla fine sto meglio rispetto a quando soffro interiormente. Perché? Perché noi siamo fatti per agire nel mondo esterno. Se questa vita è guerra, è lotta, lo scontro deve avvenire nel mondo esterno, se ci pensi. Questo scontro deve avvenire, queste forze devono scontrarsi, ma dovrebbero scontrarsi nel mondo esterno, perché sono fatte per quello. Quando noi creiamo un complesso, adesso sarebbe lungo un po' da spiegare, però anche psicologico, mentale, con il senso di colpa, come sappiamo tutti, cosa succede? Che noi rigiriamo tutta l'attenzione al nostro interno. Noi diventiamo una monade, diventiamo un mondo a sé, ma queste forze, questo scontro, proprio perché lo vuole la vita, deve presentarsi. E allora cosa avviene? Che noi iniziamo a spezzare noi stessi, per scontrare le varie parti di noi stessi, iniziamo ad autoaccusarci, è il malessere, la sofferenza interiore. E questa cosa crea ancora più malessere, ancora un malessere senza precedenti e senza fine, l'angoscia enorme. E questo è dovuto a questa visione qui, questa visione che ti ribalta la situazione, ti porta verso il tuo interno. Ecco perché invece a maggior ragione dobbiamo portare questo esercizio nel mondo esterno, nel mondo fisico, perché il corpo, noi siamo fatti di corpo e il corpo è importantissimo, perché noi siamo il nostro corpo, noi siamo l'energia che avvolge il nostro corpo e il nostro corpo non è una scatola, come ci è stato raccontato, noi siamo anche il nostro corpo ed è importantissimo questo. E il corpo deve agire nel mondo, non chiudersi in se stesso. Ecco perché questi esercizi di cui abbiamo solo accennato, ma ce ne sono tantissimi altri, di cui parleremo sicuramente ancora, accenno a questa, ad esempio la scrittura, se voi provate a scrivere, a tenere un diario, vi accorgerete all'improvviso che vi calmate, perché? Perché proiettate il vostro essere nel mondo esterno, su un pezzo di campo e anche un pezzo di carta. Ecco, però ne parleremo magari più. Esattamente, intanto grazie di questa sferzata di stoicismo che abbiamo vissuto in compagnia di Michele Putrino. Alla prossima. Grazie a te, a te, a te, a te, a te. Grazie a te, a te. la struttura e i meccanismi di radio, tv e web. Apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media, il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.